Amici sportivi, appassionati di calcio, ben ritrovati a Sport in Casa, inizia un'altra settimana, ma facciamo un passo indietro perché ieri si è giocato il campionato, non la Serie di per la concomitanza con la domenica elettorale, ma gli altri campionati si sono giocati, si è giocato in eccellenza e mercoledì si rigiocherà nel turno infrasettimanale, quindi è una puntata quella di stasera che si incastra tra passato e futuro del calcio schio, perché parliamo di eccellenza, parliamo della squadra del direttore sportivo Ennio Dalla Fina che ritroviamo volentieri nei nostri studi, buonasera direttore. Ciao Alex, buonasera a tutti. Allora direttore, lo schio che lo ricordiamo ha saltato la prima partita, il turno di riposo, la prima giornata insomma del campionato, poi è arrivata una convincente vittoria 2-0 contro il Pescantina, ma domenica, ieri è arrivato questo K.O. in parte, possiamo anche dire, immeritato contro l'Albignaseco, che partita è stata direttore? Beh, è una partita che mi ha reso consapevole che comunque lo schio è una squadra che se la può giocare con tutti, ieri abbiamo trovato una squadra ben organizzata, che ha sfruttato un'unica occasione, quella supponizione, con un gol, non gol, perché ha sbattuto sulla travesta e poi è uscita dal campo e non si sa se serve. Il VAR non c'è, quindi ci siamo fidati del guardialino. Una sconfitta comunque di rettore che lascia in bocca un sapore non del tutto amaro, diciamo agrodolce, perché la squadra comunque ha avuto le sue occasioni, comunque ha giocato. Sì, sì, no, io sono convinto che quando avremo trovato la quadra giusta di questa squadra qua, perché abbiamo ancora alcune deficienze, la squalifica di Giusti che rientrerà mercoledì contro il Bassano e poi ancora il nostro attaccante Ariete Primucci che purtroppo non è ancora il meglio, lo attendiamo, ecco, dopo sicuramente qualche aggiustamento ci sarà ancora, però la squadra sta rispondendo bene agli ordini di Stefano Pozza e quindi sono fiducioso. Direttore, ha anticipato che insomma nel prossimo turno l'infrasettimanale lo schio giocherà contro il Bassano, un Bassano che è reduce da tre pareggi consecutivi in campionato, quindi manca ancora la vittoria, però anche in questo caso, come per lo schio, si hanno buone sensazioni, cioè si respira che la squadra di Mr. Ezio Glerian possa veramente svoltare presto e cominciare a crescere. Chiaramente, direttore, ti auguri che questo non avvenga mercoledì, insomma. Sì, me lo auguro, però dipende sicuramente da noi. Ecco, come ha detto Peissier, il campionato d'eccellenza quest'anno è molto difficile, non si aspettava neanche lui un campionato così difficile e loro si sono attrezzati molto bene, la Clivense, però stanno facendo fatica. Il Bassano è una squadra che comunque non può deludere le aspettative perché Mr. Glerian, lo conosco bene, è uno che comunque all'allunga le sue squadre escono, la qualità c'è e sicuramente avrà un campionato da protagonista. Mercoledì sarà un impegno difficile per tutte e due perché insomma... Eh certo, lo schio venderà cara la sua pelle, come si suol dire. Però, direttore, Schio-Bassano non è mai una partita come le altre, al di là del fatto che, lo ripetiamo sempre, ma tutte le squadre che affrontano il Bassano giocano con quella dose in più di cattiveria, di entusione, entusiasmo, cattiveria sportiva, insomma, perché battere il Bassano chiaramente fa notizia. Ma, al di là delle rivalità, dei campanilismi, eccetera, eccetera, c'è una recente storia che lega Schio e Bassano, una storia di campionati in promozione, ad esempio faccio riferimento di un testa a testa di campionati vinti, ma poi, insomma, primi posti strappati, lunghi inseguimenti. Come state vivendo questa vigilia? Beh, il campionato di promozione era molto sentito da ambedue le città. Abbiamo fatto un paio di stagioni ad alto livello e poi con la promozione di ambedue le squadre. Noi non abbiamo le stesse ambizioni che ha il Bassano, ma il fascino rimane, cioè quello di giocare tra Schio e Bassano ancora, è un campionato che conta, un campionato importante contro una città come Bassano che Schio non vuole esserne da meno, quindi quest'anno abbiamo cercato di costruire una squadra che possa essere competitiva, più competitiva dell'anno scorso e sperando, insomma, di restare nella casella di sinistra, come ho detto già più volte. E a proposito di squadre in costruzione ringraziamo la regia che ci mostra le immagini della presentazione proprio delle varie squadre che compongono il calcio Schio dal settore giovanile alla prima squadra, immagini che raccontano di una crescita importante anche del settore giovanile, questo mi permette di chiederti come si stanno inserendo, direttore, i giovani all'interno della squadra. Beh, ecco, questo mi fa piacere questa domanda perché la bontà del nostro lavoro a livello giovanile ha fatto sì che alcuni giocatori giocassero in prima squadra da titolari, cioè poi c'è qualcuno che sta ancora facendo gavetta, però insomma abbiamo le soddisfazioni di avere giocatori del nostro vivaio che giocano da titolari, vedi Scheu, vedi comunque anche lo stesso Sartore, ma altri, cioè Rec, Lorenzi, sono giocatori che comunque escono dal nostro settore giovanile e hanno avuto una crescita importante e per noi questo è motivo di soddisfazione. Come si sta ponendo il mister Stefano Pozza con i giovani e insomma come procede anche un po' il suo lavoro, ricordiamo che è insomma allenatore nuovo e quindi c'è una fase di rodaggio insomma necessaria. Sì, beh, all'inizio ho seguito molto il lavoro di Stefano perché alla prima esperienza volevo anche capire come si muoveva, no? Cioè non è che mi posso permettere di dare consigli, però insomma l'esperienza mi permette di avere quell'occhio che va individuale insomma se un allenatore è capace oppure meno. Lui è molto bravo, cioè molto professionale e anche con l'esperienza che ha avuto comunque in campionati professionistici ha saputo riportare quell'idea in questa categoria e lo sta facendo molto bene. Poi c'è un altro aspetto che è da non sottovalutare e capire la categoria cioè da giocatore è un conto, da allenatore. Ma hai citato prima Pellissier, voglio dire che ha calcato palcoscenici di primissimo livello, lui stesso è rimasto sorpreso dalla competitività, dalla difficoltà di questo campionato. Certo, anche perché non è che più spendi più hai. Quindi dobbiamo essere consapevoli che il calcio è fatto per la gente che ha fame, che ha voglia, che ha passione. Giustamente poi i compensi sono sempre misurati dalla bravura del giocatore, ma non solo. Direttore ti chiedo uno sguardo sulle altre rivali di questo campionato. Un campionato che è vero, lo ripetiamo, perché fare bilanci dopo 2-3 giornate, perché c'è chi ne ha giocate 2 e chi ne ha giocate 3, è davvero, oserei dire, quasi ridicolo. Però, intanto, qualche indicazione la possiamo trarre. Ad esempio, squadre con un organico importante come l'Academy Plateola, come la stessa Clivense, come la Virtus Cornedo, stanno faticando un po' più del previsto, come lo stesso Bassano, in queste prime giornate. Poi è chiaro che lo stesso discorso del Bassano, lo facevamo prima con il direttore, vale anche per la Virtus Cornedo, perché il lavoro di mister Zianorini anche lì si vede in corso d'opera, sono squadre destinate a crescere. Però, che idea ti sei fatto di questo campionato? Quest'anno è un campionato molto tosto, come hanno detto tutti gli addetti ai lavori. Quest'anno è un campionato di 19 squadre, con 5 retrocessioni, quindi tutte le squadre si sono attrezzate per cercare di mantenere la categoria. Sono poche quelle che sulla carta sono partite già sconfitte. Quindi ogni domenica ti trovi a fare una partita della vita. Ieri noi abbiamo constatato sul campo che comunque anche l'Albignase, che è una squadra al nostro livello, è riuscita a portare a casa tre punti importanti per noi era importante pareggiare, perché secondo me l'Albignase è una nostra rivale e quindi era importante non perdere. Però abbiamo dimostrato che ci siamo. Per quanto riguarda le altre squadre, io avevo stilato una classifica all'inizio e sono convinto che vale ancora. Il Vigasio? Sì, penso che il Vigasio, anche se è dimensionato rispetto all'anno precedente, però ha una buona squadra. Poi la Clivense, ho messo la Rocca, l'Altavilla, la Rocca, il Bassano, e comunque il Cornelio è la squadra che non è che mi stia deludendo di più. So che Zenorini è un bravissimo allenatore. Lo conosci bene. Quindi ne uscirà vivo. E presto inviteremo anche Mr. Zenorini qui nei nostri studi per fare il punto in casa Virtus Cornelio. Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata con il direttore sportivo del calcio Schio, Ennio Dallafina. Direttore, solo una battuta. 30 secondi, in che cosa può crescere ancora lo Schio? Sicuramente creando più occasioni. Quindi l'attacco deve essere un attimino rivisto. Però sotto l'aspetto tecnico lascio al Mr. Stefano Pozza... Non metti bocca. E allora ringraziamo il direttore sportivo Ennio Dallafina, lo ripetiamo, per la sua disponibilità. L'appuntamento con tutti voi, lo sapete, è dal lunedì al sabato, poco prima delle 20, con Sport in Casa. Settimana contrassegnata, ripeto, dal turno infrasettimanale. Quindi ci sarà tanto da dire, tanto da vedere insieme. Ringrazio la regia di Fabio Perin e Renzo Rigon. Appuntamento a domani.